Speck croccante e fiori di zucca di Luana Galzerano. E' questa la top ricetta of the week dall'app di Alta Cucina. Vediamo come si fa. Prendi delle fette di speck, tagliali a listarelle e falle rosolare in padella con un filo d'olio. Nel frattempo pulisci i fiori di zucca, tagliali a julienne e tienili da parte. Ora un pizzico di sale grosso e butta la pasta. Per una pasta ancora più cremosa Luana consiglia di scolarla molto al dente e finirla di cuocere con l'acqua di cottura. Manteca bene in padella con il prosciutto e l'acqua di cottura. E infine aggiungi i fiori di zucca e il parmigiano a pioggia. E guarda che bomba! Vuoi vedere la tua ricetta sui nostri canali? Caricala sull'app di Alta Cucina e magari settimana prossima sceglieremo la tua.